Io sono Corrado Arduini e sono un medico di medicina interna, lavoro all'ospedale di Noa Felti nel reparto di medicina interna lungo degenza. Sono stato per tre mesi circa a lavorare all'ospedale di Rimini nel periodo della metà marzo a metà giugno, fine giugno, per coordinare i medici di Rimini. La disponibilità da questa esperienza è nata dalla necessità di fronteggiare una situazione che stava diventando di giorno in giorno sempre meno gestibile. C'è stato il rischio, c'è stata la paura che sfuggisse di mano e quindi che non si riuscisse più a controllare questa situazione. Uno non è che finisce di fare il medico o l'infermiere quanto stimbra e va a casa, il lavoro continua e tutte le volte che c'è necessità poi uno si dà disponibile per le sue competenze chiaramente specialistiche più o meno che ha. Quindi di questa cosa sono contento perché anche se sono delle scelte difficili, non facili perché comunque comportano rischi rientrano secondo me nel lavoro che faccio. Mi è rimasta la sensazione di un'unità che comunque in queste situazioni si crea tra tutti perché poi in fin dei conti quanto poi c'è bisogno veramente viene fuori le persone come dal profondo e quindi tutti hanno dimostrato, ma dico tutti hanno dimostrato di partecipare, di capire, di aiutare per quello che potevano. Mi è rimasta l'umiltà che ogni tanto si perde nell'affrontare le cose che invece in queste situazioni ti sbatti contro e ti rendi conto che comunque nessuno è onnipotente, nessuno è tutto quello che può sembrare acquisito, certo, scontato, poi invece non è. Questa è una cosa, un'azione che ogni tanto capita e questa volta diciamo più delle altre volte ti rendi conto che quello che puoi fare a volte non è tanto, però comunque col contributo di tutti i risultati ci sono.